Lasciati sedurre da una cucina creativa che soddisfa anche i palati più difficili. Lasciati sedurre da una cucina creativa. Lasciati ricchi e creativi, in grado di soddisfare i più svariati palati. Specialità di mare, non solo, da gustare in ogni periodo dell'anno, sapientemente accompagnate da ottimi vini pugliesi in un contesto di familiarità e cortesia.